In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne che sarà celebrata in tutto il mondo il prossimo 25 novembre, la Polizia di Stato ha organizzato una serie di eventi nell'ambito del progetto Questo non è amore, promosso dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale Anticrimine. Anche all'Aquila molto significativo l'evento che si terrà martedì 20 novembre presso l'editorium del Parco Renzopiano, rivolto agli studenti delle superiori del capoluogo di regione per sensibilizzare i giovani sul fenomeno ancora tristemente attuale della violenza sulle donne. L'incontro è organizzato in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale, vedrà la partecipazione attiva degli studenti che presenteranno lavori e performance teatrali e musicali sul tema, interfacciandosi con figure istituzionali generalmente chiaramate ad operare in casi di violenza di genere. Per proseguire l'opera di sensibilizzazione che si è rivelata molto efficace sul fenomeno sommerso della violenza di genere e per la difesa dei diritti delle donne, sabato 24 novembre a partire dalle 9.30 presso il mercato cittadino di Piazza Darmi sarà presente il camper della Polizia di Stato per un contatto diretto con la cittadinanza che potrà interloquire con gli operatori sulle problematiche legate alla violenza di genere, ricevendo apposite di donne e consigli nonché linee guida comportamentali. In questa occasione verranno distribuiti anche degli opuscoli informativi che sono stati realizzati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza per la campagna informativa che si tiene come è noto ogni anno a livello nazionale.